Con il suo mercato del bestiame tra i più storici della regione, la fiera dei mussi di Trebaseleghe entra nel vivo. La cerimonia ufficiale di inaugurazione oggi per la festa, giunta la sua 839esima edizione. Oltre alla mostra di bestiame, in scena anche la mostra a mercato, la trebbiatura e gli antichi mestieri per far rivivere lo spirito di comunità all'insegna della tradizione che si rinnova. La fiera dei mussi è iniziata il primo di settembre e durerà ancora qualche giorno fino a lunedì 11 con tanti eventi, musica, stand gastronomici e Luna Park per i bambini.